Una palla in mano e giovine il cuore. È questo il nome dell'iniziativa in memoria di Giovanni Pierotti, il giovane ugubino prematuramente scomparso lo scorso mese di maggio. Il torneo di pallacanestro 3 contro 3, che ha già visto disputarsi le prime partite, si protrarrà fino a domenica 4 settembre ed è riservato agli atleti nati dal 2004 al 2008 con vendorci squadre in competizione. L'idea, nata da due amici di Giovanni, accomunati proprio dalla passione per il basket, è stata accolta con entusiasmo dall'oratorio Don Bosco, che ha messo a disposizione il campo da gioco e gli spazi della struttura dove per l'occasione è stato attivato un punto ristoro. L'associazione quartiere San Giuliano e tanti sponsor cittadini non hanno fatto mancare il proprio contributo all'organizzazione. Per la durata dell'intero torneo, in caso di pioggia, le gare si disputeranno alla palestra dell'istituto commerciale o alla polivalente. La finale è fissata per domenica 4 settembre e verranno assegnati tre premi alla squadra vincitrice, al miglior realizzatore e al vincitore della gara di tiro da tre. Si terra inoltre una sfida 5 contro 5 tra gli amici e compagni del giovane scomparso, giocatore della prima squadra dell'Emi Basket Bubbio con la maia numero 9. Soddisfazione degli organizzatori dell'evento, che hanno lanciato l'invito a partecipare e assistere al torneo per godersi momenti di socialità, sana competizione e sport in memoria di Giovanni.